Noi siamo Talsano Africa United, noi siamo forti, fortissimi. Io sono un portiere, stavo giocando da 10 anni con una squadra, si chiama Vivi Rap Team Academy, dalla Gambia, nel mio paese. Io sono un fortissimo portiere perché è il mio lavoro. Voglio essere un grande portiere nel mio futuro. Nata quale iniziativa utile all'integrazione sociale degli immigrati attraverso lo sport, è stata presentata ieri pomeriggio la squadra di calcio giovanile Talsano Africa United, nata lo scorso anno, formata da richiedenti asilo fra i 17 e i 18 anni. I ragazzi, ospiti presso la struttura del Belsit gestita dall'Associazione Salam, erano stati notati mentre giocavano in zona batteria Cattaneo da alcuni dirigenti dell'ASD Talsano che insieme alla CGL hanno pensato di formare una squadra di calcio. Lunedì 10 viene la Lega Pro per vedere i nostri ragazzi che hanno vinto un progetto, i primi nel sud, e verranno a filmare e fotografare i ragazzi. E quindi per quell'occasione alle 18 faranno un riscaldamento con giochi tecnico-tattico, faranno vedere quello che sanno fare e quello che fanno per prepararsi per la partita, e poi la partita ufficiale contro la prima categoria che quest'anno sicuramente andrà in promozione. Abbiamo bisogno di grande senso di responsabilità da parte dei cittadini perché devono mettere da parte i pregiudizi e invece valorizzare questi sforzi e aiutare questi ragazzi a integrarsi. Noi lavoreremo ancora anche con le scuole perché è giusto che questi ragazzi immigrati riescano ad integrarsi anche con i giovani della loro età italiani perché questo è l'embrione della società del futuro e noi dobbiamo pensare ad una società multietnica e dobbiamo capire che questo è un processo che non possiamo arrestare.